Se vi riesce per caso questo errore del Valve Anticet vuol dire che le firme non sono valide sotto gioco quindi in questo caso andiamo direttamente nella cartella di Counter Strike vai su sfoglia e file locali, vai su bin una volta fatto trovi così cs2, tasto destro sopra, proprietà, vai su firme digitali e installiamo il certificato installiamo solamente il certificato e basta, vai sempre avanti fino a farti uscire importazione completata una volta fatto devi aprire di nuovo Counter Strike e verificare che il gioco funzioni perfettamente se non vuoi più questo errore possiamo risolverlo tramite l'antivirus perché è proprio l'antivirus che va a bloccare questo file quindi in questo caso io vado direttamente sul mio Avast vado così a metterlo direttamente su Avast tipo per esempio vado su apri firewall vado su applicazioni qua, faccio altro, faccio consenti, nuova applicazione una volta fatto vado direttamente su Steam, la libreria di Steam Steam Maps, Common, Counter Strike, Game, Bid, Win64, CS2 e l'ho inserito qua dentro per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao